Ci tenevo particolarmente stamane di essere presente a questo Green Day organizzato dall'Atena perché sappiamo bene quanto in questo periodo storico la situazione della disoccupazione giovanile purtroppo, soprattutto in Italia, siamo veramente in emergenza e allora offrire alla cittadinanza un'opportunità importante, ovvero quella di fare informazione a titolo gratuito grazie all'iniziativa che Atena riesce a portare avanti con i fondi per la regione Toscana messa a disposizione sul Fondo Sociale Europeo per dare l'opportunità, come dicevo, a 15 ragazzi di 29 anni, di avere una formazione che mi permetta di costruire, di darsi una possibilità lavorativa. Sappiamo anche, allo stesso tempo, che il nostro territorio, la regione Toscana in particolare, è un'area che per fortuna vive e soprattutto continua a crescere per quanto riguarda il mondo del turismo. Siamo una realtà territoriale che offre moltissimo, soprattutto affascinante per il mondo straniero e negli ultimi anni la percentuale del turismo in Toscana continua ad aumentare e è risultata l'anno scorso la seconda regione per il turismo dopo avuto il vento. Allora mettere insieme la necessità di lavoro dei giovani e una formazione che dirida verso un'opportunità lavorativa legata al turismo penso che sia un connubio vincente. Un turismo che per molte parti non vuol dire soltanto essere un luogo di cruceria tra importanti città d'arte, Roma, Firenze, Siena e Arezzo, ma l'amministrazione tiene particolarmente a far vivere anche luce propria la stessa Montevarche. Tutte le iniziative che abbiamo fatto legate al turismo hanno proprio l'obiettivo di stimolare ancora di più, di far crescere ancora di più l'arrivo dei turisti anche all'interno della nostra città non soltanto della vallata. Quello domenico di pensare al sindaco per l'opportunità che ci dà di presentare questa offerta formativa ai giovani di questa area di Val d'Arma, ma anche io ovviamente chi può iscriversi sono tutti i cittadini da Toscano, però si svolge qui a Montevarche per l'appunto e quindi mi si dà di opportuno coinvolgere l'istituzione della città in questa occasione, che è un'occasione abbastanza preziosa. Io condivido tutto quello che ha detto il sindaco sulle prospettive che può avere questo settore specifico a cui si rivolge a questo tipo di percorso formativo. Questo corso si inquadra in un progetto molto più complesso sulla formazione strategica in regione toscana. La regione ha selezionato in qualche alcune aree di possibile impatto favorevole sull'occupazione e tra questi è il turismo come elemento strategico per l'occupazione, non solo di giovani ma in generale. diciamo così, a selezionato, se sei turi che ha dei tempi strategici per l'occupazione da questi turismo. Noi come Atena, avendo ormai un'esperienza di 18 anni sulla organizzazione e avendo una linta esperienza di progettazione sul formaggio europeo, ci siamo messi in vizza per presentare un progetto abbastanza complesso, tant'è vero che questo pezzo che svolgiamo qui è solo una parte di un progetto molto più complesso.